Signori miei, non perdete questa splendida occasione, venite in vacanza con Joe Baderiani e la sua orchestra dal 2 al 9 giugno, nell'incontaminato mare della Calabria, nell'ussuoso villaggio Ossium Sibari Resort 4 Stelle. Amici, una settimana tutto, ma proprio tutto compreso. Viaggio, andate e ritorno con Pullman Gran Turismo, colazione, pranzo e cena a buffet, con bevande incluse ai pasti, nei tre ristoranti dislocati nel villaggio. Durante la giornata, bar con bevande incluse anche alcoliche, spiaggia privata e piscina lagunare con ombrelloni e lettini gratuiti, animazione per adulti e per bambini. Tessera club gratuita che comprende l'uso di baby club, calcetto, campi da tennis, volley, pallacanestro, beach volley, bocce di rocollarco, palestra e piscine. Tutte le camere sono dotate di balcone, aria condizionata, kit di cortesia, tv, phone ed internet. Serate da ballo e gran finale nell'emozionante anfiteatro. Tutto questo a soli 399 euro. E allora, che cosa aspettate, amici miei? Telefonate al numero 338 86 18 003 e sarete dei nostri. Parola di Giova Dariani. Ciao! Grazie a tutti!